Ciao a tutti gli appassionati di Ballando con le stelle. Benvenuti al nostro aggiornamento sulle ultime novità a riguardo alla sesta puntata della diciottesima edizione del famoso show condotto dalla straordinaria Millie Carlucci. Stasera, purtroppo, non avremo l'esibizione di Van Danara e del suo maestro Pasquale Larocca. Millie Carlucci ha comunicato che Pasquale è malato con un febbrone e non potrà essere presente in pista. La conduttrice ha condiviso questa notizia durante una connessione con la vita indiretta, esprimendo preoccupazione per il benessere del maestro. Nonostante l'assenza di Pasquale, Millie ha sottolineato che potremmo comunque vedere Van da esibirsi con un altro ballerino. Ma al momento non ci sono notizie certe. La situazione è complicata dato che non hanno potuto allenarsi oggi a causa del malore di Pasquale. Millie ha rassicurato il pubblico che stanno lavorando con Vanda per trovare una soluzione. Ma non tutto è perduto. La sesta puntata presenta anche alcune sorprese positive. Avremo due ballerini speciali per una notte. La leggendaria Cristina d'Avena, amata da grandi e piccini, e Giacomo Giorgio, noto per la serie di successo, Mare fuori, e Noi siamo leggenda. Inoltre, Millie ha anticipato un faccia a faccia intrigante tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. La tensione è nell'aria. E non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà durante la diretta. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdere nemmeno un momento emozionante di Ballando con le stelle. Grazie per esservi uniti a noi. Ci vediamo nella puntata.